Chiudere bene il campionato battendo Limolese, non c'è molto da girarci intorno e Luciano Zauri lo sa. Il Pescara vuole i tre punti per tenersi almeno il quarto posto e tentare di strappare il terzo al Cesena, se i bianconeri e i romagnoli dovessero cadere a Siena. Zauri ammette che il cambio in panchina solitamente dà una scossa positiva al gruppo, ma è anche contento di come la squadra sta lavorando. Domani il Pescara tornerà al 4-3 per l'esigenza di limitare i cambiamenti. Ma Zauri sa bene che questa squadra può avere più volti in vista della decisiva fase della stagione. Sono convinto anche perché il percorso di questa squadra ha detto che la squadra può fare tutti e due moduli, ma potrebbe fare anche un altro secondo me e non è detto che non lo vedremo prima o poi. Mi auguro di sì perché vuol dire che siamo andati dove dobbiamo andare. Anche nel mio passato qui, lo avete visto, a me quando c'è da mettere i tre, i cinque, i sette, l'importante è portare a casa la pagnotta, come si dice, per cui problemi zero, l'importante è che si vinca. Forse come terza partita ho un'idea più ampia di questi ragazzi, per cui qualche idea su fare qualcos'altro ce l'ho. Però in teoria vorrei cambiare il meno possibile in generale perché ovviamente il tempo è poco, ma come ho detto il primo giorno la squadra più o meno si basa sempre su quei 14-15, se siamo fortunati a poter utilizzare. Recuperato Zappella che però non sarà rischiato e andrà in panchina. Out frascatore per la frattura alla mano, Zitta favorito su Rasi per la sostituzione. Cancellotti, Drudi e Ingrosso completano la difesa, ma occhio ai Lanes. In mezzo torna Derisio con Pompetti e un Pontisso non al 100% per il solito problema al piede. Davanti Dursi, Ferrari e Clemenza. Limolese ha evitato la retrocessione diretta, ha bisogno di punti per migliorare la griglia play-out e potrebbe avere la restituzione dei due di penalizzazione nell'udienza al Coni di venerdì prossimo. L'allenatore Fontana sarà privo di Alessandro Lombardi, squalificato, LIA infortunato e forse del portiere Rossi, non al meglio. E dovrà gestire le tre diffide di Vona, Dalena e Lex Padovan che rischiano di saltare l'andata del play-out. Su avversari e sulla gara di domani ecco il punto di Zauri. Una squadra che sta cercando di, non dico di tirarsi fuori, poi di guadagnare qualche posizione in classifica. È una squadra tosta, una squadra tosta che difende in undici, sottopalla tutti, organizzata, sa quello che deve fare e che non è un dettaglio. Per cui è una partita molto molto difficile, però ti ripeto, loro ci interessano sì, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. I tre punti di domani sono molto importanti per non avere rimpianti, quindi dobbiamo fare il massimo, così come abbiamo fatto nelle precedenti partite. Quindi vincere la partita domani e poi andare a vedere cosa è successo negli altri campi, anche perché la vittoria di domani, la partita di domani serve comunque a prepararsi a punti del play-off. Quindi è una partita da vincere assolutamente e siamo pronti. Volgendo un attimo lo sguardo, oltre il pensiero è verso una difficile promozione in Serie B. Zauri non lo dice apertamente, ma ammette. Ah, al massimo, assolutamente al massimo. Quando mi è stato chiesto se volevo tornare qui, non ho chiesto né come né quando, l'importante era arrivare. È difficile sì, è molto difficile, ma per fortuna ho le armi per poterlo fare, quindi noi ci proveremo fino all'ultimo secondo per poter provare a fare una cosa di grande. Quanto grande lo vedremo alla fine.